Ciao a tutti i signori del Canal Gamer Channel Io sono Falco e lui è Tex Esatto, e in questo video è per il contest Quale contest? Il nostro contest per aver raggiunto i big money Che non l'abbiamo raggiunto per la parola L'abbiamo raggiunti qualche mesetto fa Tipo il 30 agosto che è il mio compleanno Mi è arrivato sul telefono Telefono, sapete cos'è? Una notifica in cui il nostro partner Rpm Ci ha inviato i soldi Perché hanno diminuito il limite di quanto dovevamo raggiungere Noi dovevamo raggiungere 50 dollari Non ci siamo arrivati però ce l'hanno dati comunque E da qui è partito il quesito Cosa usiamo il big money? Cosa usiamo il big money? Ebbene abbiamo pensato prima di tutto siamo stati nominati per l'ice bucket challenge L'abbiamo fatta E abbiamo donato una parte dei soldi della partner Come già abbiamo detto il video che sarà sopra la faccia di ti E l'altra parte abbiamo deciso di utilizzarla Aggiungendo qualche soldino a noi però vabbè sono dettagli Di fare un contest per regalare due ki E' stato difficile scegliere i giochi Però alla fine abbiamo deciso di regalarvi Dust e Nelizia Untamed E Trine E Trine Il primo Trine Così potete anche fare la serie come ci abbiamo detto Diciamo hanno tutte e due una motivazione Dust perché è un titolo proprio famoso E credo sia molto valido E potete seguire la mia serie meglio Credo giocandolo Quindi lo regaliamo a qualcuno Trine perché comunque è un titolo anche se è un pico valido E particolare Che è vecchio Ah tipo 5 anni E' vecchio E' un titolo simpatico Hanno fatto l'Enchanted V Edition E avrei fatto il teo di giocare con Dix e Falco online Esatto E venire anche registrati Una cosa Anche se avete Trine però non lo vincete Potete chiederci di giocare con noi Perché abbiamo sempre un posto libero Noi abbiamo registrato solo il primo episodio Solo io e Falco E niente Nei prossimi episodi aspettiamo gente che ci proponga la sua presenza Se volete registrare con noi Con la traccia audio Senza traccia audio Come vuole Ce lo fate sapere nella pagina Facebook E adesso partiamo subito con le regole del contest Prima regola Dovete mettere mi piace al canale Alla pagina Facebook Mettere mi piace al canale Iscrivetevi alla pagina Facebook E Vabbè veramente sono le classiche regole Quindi mi piace al video Il commento Con partecipo Anzi no con un commento intelligente Tipo Dix fa cagare Eh no 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 Ah è giusto Commentate con l'hashtag Colpa di Dix Noi nostri big money Cosa usiamo il big money? Commentate con quell'hashtag Significherà E' l'equivalente di Io partecipo Quindi Molta attenzione Chi scrive io partecipo Non partecipa Chi scrive con l'hashtag Partecipa Va bene? Seriamente Poi Bisogna condividere il video Esatto Su Qualsiasi social network Taggando una persona Una A caso Un vostro amico Non profili vostri Che vi create apposta Per taggarvi Noi vi osserviamo Ma sei un palato sul tale Io penso ogni evidenza Quello è Dix hai creato il profilo Per taggare Dix Io ho un profilo Che si chiama Cocco Cacca Anche Falco L'abbiamo creato insieme Ma tanto tempo fa Tipo 5-10 anni fa Esiste ancora Si chiama Cocco Cacca Cercate Cerca a fare Taggando tutti a lui Cercate Cocco Cacca Una persona E Cocco Cacca No questo non è obbligatorio Con la C Allora La C Vabbè Passiamo al tazzo Dopo la contivisione Con un tag Avete l'opportunità Quindi avete la possibilità La possibilità Di vincere Questa è una delle due Questa possibilità Può essere aumentata Se vi commentate i nostri video Allora Con ogni due commenti Avrete una possibilità In più Di vincere Questa Allora Io prenderò Un foglio di carta E ogni commento Che mi arriva Sotto i video Da questo momento in poi Video intelligente Senza contamento Commenti costruttivi Intelligenti X Puzza Puzza Cioè i commenti Con magari delle critiche Il vostro punto di vista Un Non lo so Un'aggiunta al video Saranno conteggiati Io nel foglio Metterò il nostro Il vostro nome Il vostro nome utente Metterò una X Per ogni commento Ogni due commenti Avrete una possibilità In più di vincere Utilizzeremo Uno di Quei programmi Così Che si è Casuale Randomizzare il tutto E se vince The Khan del Gamer Se non è colpa Non sarà truccato E allora Il primo posto Decide che gioco prendere Se Dust E Nell'Easy and Tale O Trine Il secondo posto Si prende le vessante Il terzo posto Niente Perché non esiste Avrà una targhetta Vabbè Col culo E poi Falco Aveva pensato Di aumentare Di si scriverà il nome Dove Il terzo posto Col culo E posto La notte Su film Sì Aveva pensato Di aumentare Le possibilità Di vincere Non solo Con due commenti Ma anche Con Il disegno Di un nuovo banner E di un nuovo logo Per la pagina Ma questa cosa Secondaria Completamente facoltativa Se vi sentite Di farci Un logo bello Un banner Simpatico Ce lo inviate Nel caso che Ci piace Anche se non decidiamo Di utilizzarlo Vi daremo Una possibilità Di vincere Più O due Due Cioè È qualcosa Di impeditivo Sarebbe illegale Verso quelli Che non siamo disegnati Vabbè Ma tanto Non credo Due 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 possibilità Di vincita Se ci disegnate Banner E E logo Belli Detto ciò Vi chiediamo Soltanto una cosa Oltre Oltre Questo Sto facendo Mille cose Che vi chiediamo Almeno Un minimo Di 50 Partecipanti A questo contest Perché Giustamente Se partecipano Tre persone Falcom Mi fa i gesti Sto Invitando La mia palazzo Ah ok Questo Connetto Vabbè Se partecipano Tre persone Capite che Il contest Non si fa È un po' inutile Fare questo contest Teniamo noi i giochi Esatto E il big money Ci compriamo Ci compriamo Una tantissima cosa Un gameboy Non ce l'hai No questo non è Mi Detto questo Il sesto punto Ce lo spiega Falco Dix C'è scritto Dix Vabbè No È una lista Molto approssimativa E il settimo punto È la programmazione Del canale Quindi non c'entra Col contest Se volete Solo partecipare Al contest Non me ne frega Un cazzo Della nuova programmazione Che stiamo Per presentare Il nuovo Palinfesto Del canale Palinfesto Potete chiudere qui Se no Palinfesto Palinfesto Se no Vabbè Restate Vi spieghiamo Come organizzeremo Il video Ovvero Usciranno Quattro video Sottimana Esatto Due Il lunedì Il martedì Cioè Uno lunedì Uno martedì Poi avrete Due giorni di pausa Così non ci riterrete Pi fulanti O Monegrafa E niente Perché non guadagniamo I doni Io no Dal 2015 All'anno prossimo Da quello che ho capito Non guadagneremo Nemmeno Niente Nemmeno Più Quei 20 dollari Per fare i contest Vabbè Poi Di questa cosa Ci donerete Qualcosa Per voi Dai Sì Passiamo a una cosa importante Lunedì Martedì Ci sarà Uno in cooperativa E uno In singolo Probabilmente Super Mario In cooperativa Visto che ne abbiamo Una catena Vabbè E poi Venerdì Sabato Sempre Uno in cooperativa E uno in singolo Quindi potete vedere Con possibilità di extra Oppure Esatto Quindi potete vedere In singolo Potete vedere Le mie serie O le serie di falco La serie di falco Il let's plays Oppure potete vedere Un in due parole O qualche mia rubrica Extra Questo è quanto Credo che si possa E Dix Sul momento Visto che sei fuori forma Dix Stoppato No Non ho stoppato Ho chiuso il documento Che leggevamo C'erano scritto tutte le parole Che abbiamo letto Sì Non leggivamo Quindi adesso Siamo senza dubbio Abbiamo compisato un finale E dicevo Improvviso un finale In due parole Visto che sei l'esperto Evideign Ciao Dai Evideign Ciao